La crisi economica internazionale colpirà l'Italia in modo particolare perché i nostri problemi sono strutturali. Questo è il punto di oggi dell'economista Massimo Bordignon. L'Italia sembra un vaso di coccio tra i vasi di ferro. Il nostro sistema bancario è più robusto e più capitalizzato di quello degli altri paesi europei. Eppure le banche italiane in borsa hanno perso perfino più di quelle americane. Non abbiamo le famiglie indebitate degli Stati Uniti, né la crisi immobiliare della Spagna, eppure la recessione rischia di essere da noi più duratura e più prolungata. La ragione è che i nostri problemi non sono congiunturali, sono strutturali. Da un decennio a questa parte cresciamo meno degli altri paesi europei e il debito pubblico sul prodotto interno lordo è ancora maggiore del 100%. L'ampliarsi dello spread tra BTP italiano e BUN tedesco dimostra quanto fragile sia la situazione. Questo significa che gli interventi congiunturali al sostegno di famiglie e le imprese devono essere giocoforza limitati e concentrati. Ma possiamo e dobbiamo fare di più sul piano strutturale, rimuovendo quegli ostacoli dalla crescita che da anni ci penalizzano. Questo significa interventi sul sistema di welfare, più efficienza della pubblica amministrazione, più liberalizzazione dei mercati, più contendibilità delle imprese. È tutto per Tigione Economia, l'appuntamento è per domani, grazie per averci seguito e arrivederci.